Salve ragazzi cari amici del web, come avete visto nel videoclip precedente mi sono fatto sgamare, non mi hanno fatto entrare all'interno della moschè, è subito arrivato un tipo che mi ha fatto il classico gesto di smammare. Questa volta qui sono riuscito ad intrufolarmi approfittando dal fatto che hanno allentato un attimo il controllo, l'omino all'ingresso si è andato a fumare una sigaretta, sono riuscito ad entrare e vi mostrerò questo luogo d'eccezione. Con la voce corale del Mutsin di sottofondo vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Io continuerò comunque il giro serale portando a voi e alla vostra conoscenza altri luoghi incantevoli di Kuala Lumpur e della Malesia. Ciao a tutti, alla prossima.